This girl is on fire, Alicia Keys. Perché è una canzone che si girava nel radio quando avevo questa stagione forte nel 2013-2014. Quando la metti su e l'ascolti mi sembrava che canta di me in quella stagione, quella stagione era veramente fortissima e mi sono ricordata quello adesso. Tina Mase era una ribelle ed è ancora una ribelle oppure no? Il mio modo è la mia decisione. Ti senti ancora così anche adesso? Sì, sempre. Da adesso in avanti cosa sarà l'equilibrio nella vita di Tina Mase? Non c'è più la competizione, allora come si trova l'equilibrio? Allora sì, l'equilibrio cambia sempre, dipende da quello che fai. Io ho dovuto trovare equilibrio nel sport, nella preparazione, nel sci. Trovare equilibrio lì, però una vita di donna mi sentivo pian piano che mio equilibrio da quella parte mi mancava. Sport alpino, sci alpino è molto aggressivo, molto forte, molto maschile. Anzi, tutti i sport su quei livelli diventano poco femminili, dai. Diciamo così, sì. che non sbaglio qualche parola. Allora, per me e per mia salute sentivo che questo equilibrio non è più quello che sono io, che è troppo stress, troppo forte, troppi pali, troppi allenamenti, troppi sforzi. Quella parte di donna mi diceva già tre anni, basta, basta, io non ce la posso più. Soprattutto che abbiamo noi questi cicli, lì si alza ancora di più e allora era difficile gestire tutto questo. E così penso che fare un po' più cose con calma mi aiuterà a trovare equilibrio che mi serve. Ritiro. Ieri, durante la conferenza stampa, nessuno ha sentito questa parola. È così difficile da dire questa parola. Ritiro? No, perché? Perché sarebbe difficile? Cioè, non so. Ritiro è chiaro di quello che ho detto. È solo una parola. Io l'ho messa in dieci. Allora, un po' più poetico. Maribor. Cos'è per te Maribor? Lì ho avuto tante esperienze belle e brutte. Però sempre molto contenta, gente da lì è divertente, mi trovo bene lì, mi sento a casa. In Slovenia avevo sempre mia gente lì che tifavano per me. Allora, quella stagione, che era 2013-14, che avevo questo slalom, che ero prima, nel primo Munch, e dovevo venire giù e vincere il slalom. Perché il giorno prima Lindsay ha vinto il gigante, io le seconda. Allora, tutti oggi, payback, no? Allora, era lì ventimila gente e tutti per me. Non è come perché in Austria arrivano tifosi austriaci, in Svizzera arrivano tifosi svizzeri e anche altri. Allora si mescola. Invece lì era così... A Maribor arrivano pochi austriaci, pochi svizzeri. Era così forte, così tanta gente. Solo per me lì li sentivo dall'inizio fino alla fine. Era una gara veramente emozionante e lì ho vinto poi quel slalom. E per me era la gara più difficile con me stessa che ho vinto. Quindi erano belli momenti. Bambini, famiglia. Cosa ti viene in mente? Famiglia è una cosa che, come donna, volevo averla da sempre. Allora adesso spero che succeda qualcosa in quella direzione. perché ho tanta voglia di bambini, di famiglia. Poi se mi chiedi di bambini vedo anche che ho finito questa laurea in pedagogia. insegnare ai bambini, imparare le cose. Ho fatto questa favola per bambini. È una favola dal paese mio, come sono cresciuta io da bambina, cosa ho fatto. Com'era un po' mia storia per bambini. Pianoforte, musica. musica. Musica è sempre parte di me. Sono sempre... Ascolto musica, mi piace musica. faccio anche qualche performance, anche quest'anno io. My way is my decision. Forse faccio ancora qualcosa. Se ti dico pesi, bilanciere, fatica. Adesso ci sarà ancora nel futuro di Tinamase questo? Sì, assolutamente sì. Perché penso che è molto sano essere in forma. Allenarti, essere fisicamente pronto per diversi giorni, per diverse cose che li fai. Perché starò ancora tanto nello sport, allora mi serve che sono in condizioni fisiche buone. Però a questi livelli, così... A lungo tempo, così tanto, quello che chiede sport al massimo livello, come l'ho fatto prima, quello per me era troppo e non più accettabile. Svizzera e Slovenia. Hai dimenticato anche qualche altro paese. Perché parliamo italiano. Ecco. Sì, tanti paesi nel mio cuore. Allora, in Italia ho imparato tante cose di loro. In Svizzera parliamo sempre di Stöckli, Fila, Manager, Ralf. Ho tanto lavoro lì, che continuo a fare anche in futuro. Sono molto contenta che posso avere la possibilità di continuare con loro in quella direzione un po' più diversa. Non come prima, come atleta, però aiutare per gli sci, per inventare cose nuove, per aiutare dei giovani ragazzi, dare qualche consiglio per ragazzi, per materiali, eccetera. Quindi tante cose che avrò possibilità di fare. A presto. Grazie.